Eeeh, ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video Giorg, survival, evolvere Buon salve Secondo me, un triceratopo Lo stendo Allora, lo so che dovrei fare Dovevo fare alcune cose off camera Che però non ho avuto voglia di fare Eeeh, ragazzi, ditemi voi, dovrei allargare casa mia Per me E' un sì Un buon vecchio Sì Ragazzi Allora Visto che ho cotto ancora il metallo Direi di prenderlo Spegnere là per non sprecare Vedete Guardate, ho sbloccato tutto Sapete una cosa, ragazzi Quello che volevo fare in questo episodio Beh No, no Non avete mica letto dal titolo Che magari vorrei addomesticarmi sto triceratopo Ma che, mica l'avete letto dal titolo Da dove l'avete letto Sì E' un sì Però Quello che mi serve Sono due cose Anzi no E' una cosa Mettere In passivo i miei dinosauri Seconda cosa Avere le fracce narcotizzanti Che ancora non ce l'ho A meno che Allora ragazzi Cambio di programma Dobbiamo Andare a raccogliere Metallo L'infinità di metallo Allora Chiedo A tutti i miei dinosauri Per favore di Seguirmi Perché dovrò fare Una piccola spedizione Perché praticamente Dovrei Andare a raccogliere Molto metallo L'unico problema È che Se mi imbatto In un dilofosauro Livello 37 E magari Ho vita bassa Muoio E magari di nuovo Se ho la mia squadra Il completo Tranne lo peterano D'Ontico Pavora che muore Non mi farà nulla Perché Possiamo combatterlo tutti Io la lancio Comunque Come notate Ragazzi Sì Devo raccogliere L'infinità di metano Come vi ho detto prima Perché Uno Non vedo l'ora Di farmi il piccolo Di Ferro Sì Su minecraft È molto più semplice Però ragazzi Sapete perché Non vi porto Altri video Perché Per me Arch Come ho detto In un episodio È una droga Io amo Arch Io amo Sto gioco Ok Mi piace troppo Fare video di sto gioco Spero anche a voi Vabbè Quando avrò 1840.000 iscritti Ci sarà qualcuno Che gli piace Il suo gioco Ragazzi Sapete anche perché Ho portato la squadra Perché Se In caso Sono anche Troppo pesante Mi aiuteranno loro Ho visto un raggio No Che vi dicevo Livello Tre Potete ucciderlo Ragazzi Lo uccido pure io Grandi ragazzi Grazie mille Ragazzi Potreste fare un po' Va bene o no Sono in due Quelli Anzi Sono in tre I carbonimis Ragazzi Lo so Mi sto imbattendo In punti In cui non dovrei Andare Perché Lo so Lo so Non ci sono mai andato Sono a livello Troppo basso Voi direte Sì Andrea Prova ad andare Sì ma Non posso Perché sono a livello 25 Ragazzi Guardate Guardate cosa accade Se voi prendete la torcia Inventario Uscite inventario Guardate Inventario Uscite di nuovo Inventario Poi Dovete uscire dall'inventario Cliccare di nuovo inventario Guardate C'è sto bug Che quindi Se voi siete di notte Dite No no Mi serve la torcia No così Non c'è più la torcia Non posso più vedere Mi basterà Semplicemente Vado a bere Fare così Zero Inventario Oppure Anche Credo dall'Xbox Poi zero Di nuovo zero O dall'Xbox Credo No B Guardate Zero 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 Guardate E potete Vedere al buio E nel frattempo Frugare nel vostro inventario Sì ragazzi Sì Senza frecce Non si va da nessuna parte Sì ragazzi Naturalmente Il tricerato Può poi Finirò di addomesticarlo Magari off camera Perché ci vuole un'ora Meno male che ho cancellato tutto Dai salvataggi Perché c'era scritto Addomesticazioni 9999 Perché era Quando ho giocato Con il mio miglior amico Lorenzo Oh Due di metallo Cioè tre In tutto Dovrei averne tre Sei Allora ragazzi Visto che Non sta facendo nulla Direi Di farmi tenere Tutta la roba inutile Tipo carne marcia Che non so se scade Sapete Boh Non me lo fa più vedere Non so Come mai c'è sto bug Ah Eh visto Guardate ragazzi Funziona anche con il piccone Guardate Zero 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 Guardate Zero 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 Tadam Guardate anche con l'ascia C'è con la lancia Zero 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 Guardate Questo anche con la fionda Zero 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 Vedete Anche con l'ascia Zero 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 Aspettate Zero 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 Dai Zero 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 Anche con l'arco Zero 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 Aspettate Zero 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 Quindi sto bug è molto utile Sapete Magari per i viaggi che fate di notte Ricordatevi Se avete uno di questi problemi Di usare il mio consiglio Oh Non lo sapevo Da qui si può Ricavare Ricavare Come parlo Ricavare Ricavare un sacco di metallo No Non lo sapevo ragazzi Perché non me l'avete scritto nei commenti Ricordatevi che io Dovete scrivere in questo video Perché io vado a vedere i commenti Di cinque anni fa Cioè se voi mi scrivete in un video di cinque anni fa Non è che torno magari in mi presento Non è che torno in mi presento E vado a scorrere giù i commenti Voi mi dovete scrivere in questo Ogni tanto magari darò un'occhiata anche ai commenti di cinque anni fa Forse non mi ricordo se sono cinque Avevo sei anni quindi no Aspettate Di tre anni fa Di certo non li guardo Però vedrò Raga Ragazzi Lo sapete una cosa? Questo gioco mi rilassa Perché è bello spaccare Le rocce E Wow 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 Raga Ma che posto magnifico è mai questo? Prima o poi mi farò casa là Però in questo momento Ce l'ho in un altro punto la casa Sì sì vi faccio level appare dopo Tranquilli Calmi Ragazzi vediamo quanto metallo abbiamo raccolto Quindici Quindici Dato che si Che è quindici Va bene No vi siete Impigliati vero No ci siamo tutti Una domanda Ragazzi Voi che siete più esperti Il metallo Cioè scusatemi Il cristallo Il cristallo Si può trovare in altri punti O per forza in montagna Perché se per forza in montagna Devo aspettare fino a livello Ehm Dun dan dun dan Oh Craftalo Allora Devo aspettare fino a livello Vediamo Sella per l'opteranodonte Mi sembra 38 Sapete Vediamo il livello 39 40 38 Esatto Vabbè Sono già a livello 25 Però ragazzi Ditemi vi prego Perché io ne ho bisogno Nel frattempo qualcuno Mi può dare una mano Con sto dodo Grazie No Cosa fate Chiunque sia stato Prima o poi Si beccherà una botta Qualcuna voglia Dettaccarmi sto carbone Miss Di livello 7 Un raggio Vedato che non mi vede Nessuno Non ci vede Nessuno Un forte Via veloci che c'è di un altro Non so che livello sia Via Perché Per Sentite Per il binocolo Cannocchiale Che ci hanno lasciato in pace Cannocchiale Servono Servono No Il raggio Da quanto tempo era lì Guardate raga Se io voglio Comprarmi Uno Se voglio Il binocolo Non so Cannocchiali Scusatemi Dun 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 Ecco Ce l'ho già Mi servono Due di cristallo E poi perché te lo fanno imparare A livello 7 E io il cristallo So che devo trovarlo in montagna Però Non c'ho voglia di andare Sì in montagna E qualcuno mi attacca A un dodo di Anzi no Passivo Che mi vorrei Grazie Vorrei addomesticarmi Questo dodo di livello 32 Qualcuno non vuole Colpa alla testa Potrò anche morire di fame Ma Mi serve un dodo Ok Poi Vabbè non Che spavento Ok Io a te ti lascio qua Noi andiamo a mangiare Che Ormai è notte Qua c'è il mio vecchissimo corpo Che dovrebbe marcire tra Ancora Ancora due ore Vabbè Io Ti uccido Ti tolgo tutto Grigli 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 Grande Mr. Dodd Ti chiami Sei una maschia Una femmina Maschio Guardate raga Guardate Come Guardate Sapete che Come l'ho chiamato Che l'ho chiamato Mr. Dodd Mr. Dodd Mr. Dodd Mi sei livello anche 32 Guardate Sta ballando Addio Uno Due Uno Due Oddio Sto un secondo Uno Due I believe I can fly No copyright Scusate Raga Guardate 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 Ho fatto il bug Vi spiego come si fa Praticamente voi dovrete Raccoglierlo E nel frattempo Cliccare dove avete La torcia Ok Anzi no Seguitemi Tutti Tranne il Dodd Perché Vi dovete Rimettere Nella gabbia Ok Non è che Servia molto Eh Sta Gabbia O almeno Mr. Dodd Gli ho rotto il coglio Gli ho pizzicato Din 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 In Allora raga ci stonerà un po' eh Però Tentare Non nuoce Sì Ce l'abbiamo raga Allora solo un secondo eh Dun 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 ok mettiamo ancora carne bisogna ritogliere qua prendiamo la nostra bella carne cruda che buona la carne cruda proprio al gusto che mi piace si si proprio comunque raga dividiamo sulla metà questi e forse forse non ce n'è abbastanza per la cucina perché sono sempre 15 pezzi quindi io l'accendo e vediamo ce ne sono 15 io te ne metto ancora 18 così fanno 33 e ti metto qualcuno forse forse dovrebbe avere ancora del metallo se non mi sbaglio potrei anche sbagliarmi vediamo magari sbaglio un po' per non tenermi troppo per non essere troppo pesante no non credo che l'abbia messo sui idilofosauri allora si ci sono un po' con tutto però quindi raga ci sono solo 15 pezzi we are the champion my friend ho toccato il tetto una pupa forte una manfarda ma ogni tre pezzi mi fai uno di metallo oh no no aspettate un momento 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 cosa mi serve per craftarti dai c'è un metodo mi scusi non è quello che volevo fare c'è un metodo ragazzi mi dite come mai non mi da più le scritte di come trattarlo ah il banco del lavoro non mi serve quanto metallo mi serve non posso aspettate no sentite raga no raga ma perchè non me lo dice più dai non so quanto mi serve per craftare vabbè va una stupidaggine c'è ragazzi una volta mi diceva quanta roba mi serviva per craftare sentite ragazzi non si può craftare mi dispiace non posso craftarlo se non mi dici quanto mi serve io ho sette lingotti non vorrei dire però forse forse può essere che riesco c'è scusate raga devo che cosa devo avere non posso saperlo che stupido gioco si ma che gioco è non ti dice manco che cosa c'è programmatori dai ma perchè me l'avete torto adesso facciamo rispetto a Andrea togliamo tutto ma perchè dopo che sono andato a giocare con Lorenzo che è successo non gli andava bene che cosa vuole Ark perchè abbiamo giocato in due non gli piace vuole che gioco solo io e scusate io mica posso sapere che Engram servono vediamo se adesso posso craftarli allora se tu non mi dici cosa mi serve per craftarli io non li crafto sentite raga questo è l'ultimo episodio di Ark non ne farò mai più c'è dieci di pelle e voilà poi dieci di pelle e pelle pelle io ne ho pelle ne ho 82 poi cos'altro mi serve quanta legna ho 39 quanta me ne serve scusate raga c'è andiamo a vedere negli Engram ed è un po' che non mi vuole far vedere tutti gli tutti disponibili meno 16 no Ark si sta baggando no 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 io abbandono Ark io abbandono questa mappa adesso cancello la mappa e rifaccio tutto da capo l'episodio 1 2 3 23 24 di nuovo l'episodio 1 me lo rimetto l'episodio 1 me lo volete vedere c'è perché io non ci gioco più ma dammi dice cosa mi serve mi dice 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 ancora meno 16 c'è raga prova a rispondare vediamo cosa mi fa dai 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 non è valido vediamo cosa mi dice tra i punti disponibili se mi dice ancora meno 16 si però almeno le altre cose ve le fa craftare vediamo cosa mi dice qua adesso oh devo avere uno di legno 10 di pelle e un lingotto di metallo ma vedete che sono scemo scemo se non lo metto dentro come faccio a craftarlo e tu no aspetta te almeno il piccone ce l'abbiamo però per l'ascia cosa gli serve ascia metallica 8 lingotti per l'ascia vabbè qua ce ne saranno già una marea vero a voglia vabbè ti va bene lo stesso vabbè tanto adesso con questo mi dovrebbe cuocere c'è guardate raga non mi dici più cosa mi serve se sapete un modo per riprendere a sentire cosa mi serve per la roba c'è guardate io metto qua e guardate non mi dà nulla non mi dice per questo ti serve oh ho spento con il re 3 per questo ti serve 80 di legna no a meno che questa mappa è buggata scusate vediamo se io metto punti disponibili uno però sentite raga secondo me questa mappa ormai secondo me sta soffrendo troppo secondo me dovrei cancellarla però non ho voglia perché ho fatto tutta sta roba sta impazzendo la mappa la mappa non riesce più a controllarsi sta impazzendo a volte non mi guardate adesso non mi sta cuocendo nulla sentite secondo me raga secondo me la mappa sta iniziando ad impazzire perché non ce la fa più secondo me è troppo vecchia sta mappa secondo me perché dato che dice dato che questa mappa ci sarà da un sacco di anni può essere che i creatori di Ark vogliono toglierla però non sanno che magari ci sono io che sto ancora giocando questo è il brutto ti ho portato altri tre lingotti che fanno quattro dai 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 cuoci ti prego ragazzi sta mappa sta impazzendo comunque bello il piccone eccolo direi aspettare aspettiamo che questo si rompe e anche l'ascia magari un lingotto benone tutto quello che vi serve per l'ascia invece per la balestra boh ok direi di lasciarli qua mister dodo voglio che tu non ascolti non libera indietro comportamento ignora fischi di gruppo così almeno tutti i fischi che ti farò che farò tipo seguitemi tutti sono quelli che ho scelto giochi più forti un dado muore subito anche a livello 1133 comunque ragazzi noi ci vediamo alla prossima ciao ciao ciao